Ripeteremo questo un brano, è già stato fatto, ma noi lo vogliamo fare proprio da Arabutani lo facciamo. C'è chi l'ha fatto da americano, noi lo vogliamo fare da Arabutani. Fate un applauso, noi cominciamo. Autore dei sottotitoli e revisione di QTSS Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!